Avevi una borsa di studio e hai mollato tutto. Perché? Mi sono fatto del male per far male a mio padre e non ho voluto più giocare a basket. Mi serve un altro coach. È una buona squadra? No. Non riusciamo a centrare i play-off da quando giocavi tu. Tu non puoi decidere la partita, ok? Abbiamo un codice di condotta. Ti sto lavorando. Impegnati di più. Voglio solo che torni a essere felice. Ma devi volerlo anche tu. Tutto chiaro, Brandon? Voglio sentire la tua voce, sì o no? Sì, coach. Siete nervosi? È normale. Gli avversari saranno anche più bravi di noi. Ma non sono una squadra migliore. Non sanno che cosa significa fallire e poi rialzarsi. Chi siamo noi? Non sanno cosa significa combattere. Non sanno cosa significa affermi. Non sanno cosa significa fai. Grazie.